Devi risolvere un guasto o effettuare manutenzioni sulle tubazioni della tua industria? Interrompere l'intero flusso produttivo per eseguire l'operazione è un costo doloroso per l'impresa. E poi non è l'unica strada. RS Ravetti Service, grazie ad un team di tecnici specializzati, realizza sistemi di intercettazione per fermare il flusso in pressione e garantire la continuità della produzione. Anche durante l'esecuzione dell'intervento. L'installazione avviene nella massima sicurezza senza causare alcun fermo macchine, grazie al nostro sistema Stop System. Una volta individuato il punto dell'intervento, si saldano sulla condotta due raccordi sagomati. Poi vengono installate delle valvole piatte e si effettua una foratura di precisione. A questo punto vengono posizionati all'interno della condotta i due otturatori che possono comunicare tra di loro grazie ad un bypass, garantendo il passaggio del fluido nella condotta. Mentre nel mezzo sarà possibile operare la manutenzione, sia ordinaria che speciale. Il sistema Stop System di RS Ravetti Service è la soluzione ideale anche per i cantieri stradali. Scongiuriamo di servizi al cittadino durante gli interventi alle reti idrauliche, di gas e di teleriscaldamento. Per questo siamo partner dei maggiori enti fornitori di energia italiani ed esteri. Le nostre attrezzature garantiscono una tenuta perfetta e sono sottoposte a continue revisioni e collaudi per lavorare nella massima efficienza. Clicca qui per maggiori informazioni.